Musica 18 giugno 2015, Gianni Colacione per Libere TV davanti all'ambasciata della Guinea Equatoriale siamo in compagnia dell'avvocato Romano Perorino Perfetto, per una vicenda che coinvolge un cittadino italiano in Guinea Equatoriale Ecco, rapidamente di che cosa si parla avvocato, di cosa si tratta? È una vicenda piuttosto complessa, quindi racchiudere in poche parole è molto molto difficile Roberto Berardi è stato imprigionato in Guinea Equatoriale il 19 gennaio 2013 successivamente è stato per il primo tempo imprigionato senza alcuna motivazione poi successivamente dopo circa 22 giorni di prigione cautelare ha subito un processo dove è stato condannato per indebita sottrazione di fondi nella società di cui faceva parte in realtà lui non ha sottratto proprio niente perché prima di tutto la società era sua e il socio che l'ha accusato era quello che in realtà è il figlio dell'attuale presidente della Guinea Equatoriale Teodorin ed è quello che invece ha sottratto dei fondi per portarli all'estero utilizzati tra l'altro anche per l'acquisto del guanto di Michael Jackson Mirabilia quindi quando Roberto ha chiesto spiegazioni di questa situazione si è visto arrivare la polizia e da lì è cominciato tutto il calvario in cui si è trovato oggi Roberto estendo stato condannato in un processo farsa che senza prove non ha mai visto l'avvocato per la prima volta se non è al processo stesso è stato condannato per due anni e quattro mesi e quindi in data 19 di giugno e maggio doveva uscire dalla prigione cosa che invece non è assolutamente avvenuta quindi in violazione di qualsiasi diritto e della Guinea Equatoriale e qualsiasi diritto di carattere internazionale soprattutto nel campo dei diritti umani ecco questa è un po' tutta quanta la situazione per cui oggi siamo qui perché ci vengono a dire qual è il motivo per cui tuttora mantengono in prigione un cittadino italiano, un cittadino europeo sottolineo europeo pur avendo scontato comunque la pena indipendentemente poi dalla valenza della sentenza stessa su cui poi ci sarà molto da dire successivamente grazie